Ben ritrovati al consueto appuntamento con l'informazione del telegiornale di TV City. In apertura l'emergenza sanitaria, il direttore sanitario dell'ASL Napoli 3 Sud fa chiarezza sulla variante Delta a Torre del Greco. Spazio poi alla cronaca con l'operazione della Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 400 piante di marijuana, denunciato il responsabile. Torniamo a Torre del Greco in vista delle vacanze estive. Abbiamo chiesto ai torresi quali sono i loro programmi per le vacanze. Resta la preoccupazione per una nuova ondata di contagi. Infine lo sport con la Turris, primi due colpi di mercato per la società corallina che si sta attrezzando per bissare quanto fatto nella scorsa stagione. Questo ed altro, guardiamo i servizi. Siamo qui con il direttore dell'ASL Napoli 3 Sud, Gaetano Donofrio, per parlare appunto della situazione relativa alla variante Delta. Com'è la situazione in questo distritto sanitario? La variante Delta nel distritto di Torre del Greco ha visto la presenza di 44 casi inizialmente. Di questi solo 12 sono rimasti attualmente positivi e praticamente una sola persona è stata ospedalizzata. Posso anche dire che tra gli infetti, quelli che praticamente hanno avuto scarsi sintomi o nessun sintomo, tolti chiaramente i minori di 16 anni, perché vi sono alcuni minori inferiori a 16 anni, comunque erano tutti vaccinati. Il punto di svolta è stato che molti avevano avuto tutte e due le dosi, alcuni solo una dose. Per cui, quelli che hanno avuto una sintomatologia, seppur lieve, una persona è stata in ospedale qualche giorno, ma in via di dimissione, avevano avuto comunque una copertura almeno parziale. C'è da preoccuparsi in vista dei prossimi mesi? Si parla che la variante Delta sarà prevalente alla fine di quest'estate? Ma la variante Delta, come si può dire, è l'erede della variante inglese, nel senso che il Covid è un virus ad RNA. I virus RNA, simili a quelli dell'influenza, variano continuamente, perché l'evoluzione stessa del virus, che essendo un virus oggi solo intraumano, cioè che vive solo nell'uomo, deve trovare una forma di adattamento. Potremmo dire, in termini generalisti, che i virus, come tutti gli esseri viventi, la prima cosa che vogliono fare, vogliono vivere. Quindi, generalmente, anche le varianti che si sviluppano nel tempo, devono trovare comunque una forma di convivenza con l'organismo ospite, quindi l'uomo. Per cui, varianti ce ne saranno ancora molte. Il vero punto di caduta è che le varie varianti, se troveranno una copertura vaccinale completa di gregge, per essere chiari, potranno anche infettare, ma certamente, ed è il vero indicatore più importante, il tasso di ospedalizzazione, quindi di persone gravi o con sintomi importanti, resterà comunque minimo. D'altronde, l'influenza, ogni anno, determina complicanze per 5-10 mila persone che, ahimè, muoiono. Oggi, l'anno scorso, il picco del Covid ha portato in Italia a quasi 130 mila morti, quindi 13 volte in più di quello che è il picco dell'influenza. Però, se ci vacciniamo, faremo sì che tutti, avendo una memoria immunitaria, ammortizzeremo questo virus. La campagna vaccinale a che punto è? Si può arrivare effettivamente all'immunità di gregge verso la fine dell'estate? Il punto cruciale è che le persone si devono prenotare, perché il dato, diciamo, vero, purtroppo si è visto non tanto nella nostra ASL, perché noi abbiamo perseguito l'apertura di vari punti vaccinali e noi abbiamo aperto 35 punti vaccinali sul territorio, proprio perché la strategia è stata quella del centro vaccinale di prossimità. Però, immagini di altre aziende hanno fatto vedere hub semideserti. Questo è l'elemento preoccupante. Il fatto che ancora notevoli quote della popolazione non hanno capito l'importanza della vaccinazione. Come funziona il sequenziamento di questi campioni, di questi tamponi? Ma è un sequenziamento a campione. Cosa significa? Che tra tutti i campioni positivi che la campagna ogni giorno rileva nei vari centri vengono mandati o al T-Gem o allo zoo profilattico o al cotugno. Lì, una quota di questi campioni hanno, tramite, si chiama estrattore, la possibilità del sequenziamento genico e verificare se, diciamo, la composizione è una variante delta o meno. Quindi, non tutti i campioni positivi della campagna ogni giorno vengono sequenziati, anche perché sarebbe un costo abnorme. Generalmente si fa un campionamento e poi, soprattutto, lì dove ci sono dei casi di positivi, i tamponi, dei contract tracing, quindi dei collegamenti diretti a chi già è stato riscontrato come positivo durante delta, vengono anch'essi esaminati con l'estrazione. Il gruppo della Guardia di Finanza Ritorre Annunziata ha sequestrato nelle campagne tra i comuni di Sant'Antonio Abbate e Scafati una piantaggione di cannabis occultata in una serra di vita a coltivazione di pomodori. In particolare, i baschi verdi hanno individuato oltre 400 piante di cannabis dell'altezza di circa 2 metri. È stata quindi avviata un'operazione di polizia giudiziaria, coordinata dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore, nel corso della quale è emerso che il responsabile della cultura, formalmente titolare di una ditta individuale operante nel settore della produzione di spezie e piante aromatiche per uso farmaceutico, aveva dichiarato trattarsi di cana passativa seminata all'inizio di giugno. A riguardo lo stesso aveva esibito una fattura di acquisto di semi di tale pianta. Tuttavia, la crescita anomala delle piante, le modalità con cui venivano coltivate ed occultate e le successive analisi effettuate su un campione delle stesse hanno permesso di far emergere un livello di THC notevolmente superiore al limite consentito per la cana passativa. È stato quindi denunciato il responsabile, un 46enne di lettere, per coltivazione di sostanze stupefacenti. La coltivazione avrebbe reso circa 40 kg di mariguana, fruttando profitti illeciti per circa 60.000 euro. L'incognita del Covid nel programma delle vacanze estive dei torresi. La maggior parte dei cittadini, infatti, non ha ancora programmato la propria vacanza in vista delle prossime settimane. Ancora troppo rischioso, secondo i torresi, allontanarsi dalla città se non permette di prossimità. Questa mattina le telecamere di Tivusiti sono state nel centro storico di Torre del Greco per raccogliere le opinioni dei cittadini. Siamo ormai a luglio, è tempo di vacanza, lei cosa farà in queste settimane? Rimaniamo a casa, anche perché i soldi non ce ne sono, poi comunque non sono finiti i vari contagi, c'è comunque da stare attenti. Quindi lei è preoccupato della situazione relativa al Covid? Sì, sicuramente, non siamo ancora tranquilli, specie a Torre del Greco dove si sente parlare di contagi, di delta. Gli spostamenti che i cittadini faranno, secondo lei, potranno mettere a rischio nuovamente la situazione? Come parlano in Europa, proprio stamattina leggevo che a causa dei viaggi si stanno aumentando un po' i contagi. Mi auguro di arrivare entro fine luglio libero da qualunque impegno per potermi godere un po' di vacanze estive, anche se il mese di agosto è il peggiore a mio avviso, però è l'unico che ho per poter andare in vacanza. Dove andrà in particolare? Già qualche programma? Ancora no, ancora no. Noi ci auguriamo la cosa principale che praticamente questa pandemia venga gestita la meglio, in modo tale da non ritornare poi a settembre, punto e a capo. E penso che questo è un desiderio di tutti. Siamo agli inizi di luglio, lei cosa farà nelle prossime settimane? Andrà in vacanza? Prima secondo vaccino, poi si vedrà. Purtroppo può essere anche che ancora non è sicura di partire per questa ancora evoluzione del Covid. Si sta rinnovando un'altra volta con la variante, i contagi, uno si deve essere sempre accorto, educato e consapevole che non è tempo ancora di essere pronti per l'assemblamento. Più che programma definito direi di fare qualche puntatina qua e là, vista la situazione, visto che siamo in regime di libertà vigilata, diciamo così, tra virgolette ovviamente, un po' enfatizzando la situazione. Quindi sicuramente ci sarà qualche puntata qua e là nelle vicinanze e anche in diverse parti d'Italia, ma nulla di definito anche perché la situazione è in costante evoluzione e quindi è impossibile fare delle previsioni. Quindi sfruttare l'occasione anche per conoscere le nostre bellezze del nostro paese, delle nostre località? Sì, perché se teniamo conto che l'80% del patrimonio culturale in Italia, allora direi che sarebbe il caso di sfruttare qualche, di porre il naso un po' vicino casa nostra. Ecco, non andare oltre, ma in maniera tale anche da implementare il turismo locale. Ci sono tanti borghi, tanti posti che meritano di essere visitati, quindi diciamo che si può sfruttare una situazione per guardare cose che in passato sono sfuggite per tante ragioni. Andremo in vacanza sicuramente, almeno per un weekend, qualcosina si farà, per spezzare anche un po' da questa routine, da questo periodo che ci vede un po' stressati tutti quanti noi. Magari anche un'occasione per riscoprire le località più vicine, che magari in periodi normali sono state, tra virgolette, trascurate. Sicuramente, sicuramente. I posti poi più belli li abbiamo anche noi qui, quindi non andremo manco molto lontano, immagino. E crede che con questi spostamenti alla fine possa aggravare la situazione relativa alle varianti? Io penso che con l'avanzare della campagna vaccinale la situazione sia sicuramente migliorata. Ovviamente non bisogna abbassare la guardia e tenere sempre massima attenzione sull'argomento. Proseguono i preparativi in casa Turris, in vista della prossima stagione. Lasciate ormai alle spalle i dubbi sulla proprietà, con il presidente Colantonio, che continuerà a guidare la squadra Corallina. La conferenza stampa della scorsa settimana, con l'annuncio del nuovo organigramma delle giovanili, segna un nuovo inizio per la società, pronta ad ambire quest'anno nuovamente alla salvezza, o magari a qualcosa in più. Dalla giornata di ieri è partito ufficialmente il calcio mercato. La Turris ha già ufficializzato due colpi di questa sessione estiva. Il primo, Vito Leonetti, classe 94, profilo tra i più importanti della categoria e con caratteristiche congeniali e indicazioni dello staff tecnico. L'attaccante, formatosi nel settore giovanile del Bari, è riduce da due annate molto positive in forza armatelica, di cui l'ultima è Lega Pro, con 12 reti all'attivo e l'appellice dei play-off nazionali. In precedenza 37 centri nel biegno con la maglia della Vastese in serie D ed altre sprenze in serie C nelle fila di Regina, Lumezzane, Acragas e Savoia. Altro rinforzo in attacco è rappresentato da Salvatore Longo, ufficializzato proprio nelle scorse ore e in arrivo dalla Fiorentina. Sottoscritto un contratto triennale con l'attaccante originario di Catania, che dopo due campionati primavera disputati con il Club Viola, conditi da tre reti nel Viareggio Cup 2019, nelle due precedenti stagioni era stato girato in prestito in Lega Pro, prima al Bisceglie e poi alla Pergolettese, realizzando due reti nel campionato 2021. Arrivo in una società importante in una piazza calda con grande tradizione calcistica, commenta Longo. Non ho potuto dire no alla chiamata del direttore primicile e al progetto Turris. Da parte mia ci metto entusiasmo e tanta voglia di mettermi in gioco. Ho sentito telefonicamente anche Mr Caneo che già mi conosceva. Il suo tipo di gioco ha rappresentato un altro fattore importante nella mia scelta. Cresce dunque l'attesa in vista della prossima stagione, con la Turris che intanto cerca di rinforzarsi sin da subito in questa finestra di mercato estiva. Con questa notizia si chiude anche oggi questa edizione del nostro Tg. Vi ricordo che per info e segnalazioni potete inviare una mail all'indirizzo redazionechiocciolatvcity.it o chiamare al numero 340 6561 484. Con questo è veramente tutto. L'informazione del Tg di Tv City vi dà appuntamento a lunedì. L'informazione del Tg di Tg di Tg.